Questo importante progetto ma lo fa essendosi preparato benissimo, sono quindi stato testimone della accuratezza con cui si affaccia a questo servizio da regione importante che serve bene i propri cittadini, forte della propria cultura del servizio ai cittadini su temi così importanti come quello del soccorso pubblico, quindi faccio i complimenti al Presidente per quello che inauguriamo qui oggi. Molto orgogliosi di aver portato a termine anche questo obiettivo, tre anni di duro lavoro con tutte le istituzioni coinvolte, nuovo personale assunto, formato grazie all'Agenzia di Protezione Civile, ad Abruzzo Progetti, alla Direzione Generale che ha lavorato insieme alle Prefetture, alle Asle, a tutto il mondo della sanità e a tutto il mondo dell'emergenza urgenza. Da oggi l'Abruzzo è più sicuro e contribuisce alla sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.